Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 ma la dama bianca e la dama viola come io la finisci? niente che è si, non sarà così a posto credo che la cosa più importante sia la dimostrazione che tantissimi ragazzi e ragazze sono venute sono oltre 100 quasi 150 persone che hanno dato una mano a 10 associazioni in uno sforzo collettivo per ripulire e tutelare uno dei minori gastrici più belli del centro Italia piantare faccita quindi credo che questo sia il segnale importante onorevole Carella buongiorno buongiorno lei che è figlio di queste montagne cosa pensa di questa giornata ecologica? penso bene penso bene perché è un'occasione di frequentazione di queste bellissime montagne specie in primavera e molti di voi potranno scoprire la flora di queste montagne orchidee bianche rosse di tutti i colori fiori a volontà colori a volontà bellezza a volontà sensazioni positive a volontà mi auguro che non sia solo una giornata lana perchè molti di voi sia anche un'occasione per frequentarle più spesso ok? la ringrazio bene